Ciao, sono Jill Cooper e voglio aiutarti a cambiare vita. Voglio aiutarti a diventare costante, disciplinata, in forma e felice. Ciao ragazzi, sono tornata con un webinar dedicato a come bruciare meglio i grassi nel modo migliore, senza grande fatica e con semplicità. Si è comprovato che le persone che sono fidgete, che cosa è fidget? Sono quelle persone che voi vedete sempre che si muovono, sempre hanno i piedi in movimento, parlano con le mani, scattano destra e sinistra. Io sono una persona che è sempre fidget, mi vedi sempre in piedi, se devo parlare sono in piedi camminare, cammino anziché usare la macchina, vado in bicicletta anziché utilizzare la macchina. Io sono una fidgete e si è provato, si è visto scientificamente che un fidgete consuma di più di un sedentario tra 800 e 2500 kcal al giorno. Così se voi siete uno molto posato, molto calmo, ogni tanto diventare una fidgete potrebbe aiutare. Ma sai anche quelli che stanno là con la penna? Questi piccoli movimenti durante l'arco della giornata potrebbero aiutarvi a bruciare più calorie, senza l'allenamento. Cioè se sono un ufficio e sai quelle che si muove sempre le gamba? A te ti dà un po' di fastidio, ma quelle persone stanno bruciando più calorie di voi e spesso e volentieri possono mangiare più di voi perché non hanno problemi di consumare quelle calorie perché stanno consumando anche 800-2000 kcal al giorno. Ecco dove entrano due dei miei attrezzi per fare i fidget senza che tu te ne rendi conto. Allora, io adesso non sto saltando, non ho messo la musica, non sto facendo una coreografia e non sto neanche staccando il mio piede da trampolino. Nella mia carriera ho cominciato a lavorare con i trampolini nel 2008. Dal 2009, quando ho cominciato a portarli nelle palestre e portarli con la gente, ho visto la gente dimagrire molto velocemente. E sono più di 15 anni che sto provando di capire il perché, perché io sono curiosa come una scimmia e quando vedo che qualcosa dà risultati, sono curiosa di capire perché è successo, che cos'è il meccanismo dietro questo dimagrimento così repentino, veloce e facile. E adesso, da un ultimo studio scientifico, questo su Fidget, penso di in parte aver raggiunto la risposta. Allora, tu sei un antisportivo, non ti piace allenare, sei uno sedentario e facciamo causa che c'hai 15 chili in eccesso. Allora, una cosa che possiamo fare è, durante l'arco della giornata, provare di alzarci e abbassarci dalla serie 10 volte. Infatti c'è un'app sulla iWatch, che dice che devi alzarti una volta all'ora. A me lui dice, ma non ti sei mai alzata perché non mi sono mai seduta. Con me fa il calcolo male. Però, la prima cosa è Fidget. L'altra cosa è che quando torniamo a casa, se guardate, vedi, mi sta muovendo tutto. Mi sta muovendo le braccia, mi sta muovendo i muscoli, mi sta muovendo anche la pancia, se vogliamo dire. E il mio corpo, in questo momento, lo sta percependo come Fidget. Cioè, Fidget. Che cosa faccio? Torno a casa, sono stanca, non voglio neanche cambiarmi, accendo la televisione e guardo il TG. Guardate il giornale. Perfetto. E questo Fidget sarà accumulato o aggiunto come movimento durante la mia giornata. E non devo allenarmi. Cioè, la cosa importante di questo è capire che questo è un modo non sportivo per bruciare fino a 2000 calorie in più al giorno. E uno dice, ma è possibile? Sì, è possibile che scientificamente provato. Cioè, chi ovviamente fa più Fidget dell'altro dipende dal tuo sesso, dalla tua grandezza del corpo. Una persona che è più alto brucia naturalmente più calorie perché ha più sostanza da muovere. Ok? Ma, in rispetto per ognuno di noi, questo è un movimento che potrebbe tranquillamente... Guardami le mani. Questo è percepito dal mio corpo come se stessi facendo questo. Ok, quando dobbiamo vedere... Quando arrivi all'autobus... Ok, guardi, questo è un movimento. E questo è un movimento. Vedi le mani? Io non sto muovendo le mani. È il trampolino che sta muovendo le mani. Uno dice, per le ginocchia è morbido. È ammortizzato. Non pensare che questo ti fa male alle ginocchia, alle schienali anche perché è morbido. Non è duro come il pavimento. E se io mi metto a casa e faccio solo questo 10-15 minuti al giorno, comincerete a perdere peso perché state aggiungendo fidget alla vostra giornata. Così il mio consiglio è di fare qualcosa che ci permette di mettere movimento passivo nella nostra vita che ci darà questo effetto brucia grassi maggiorata. E l'altra cosa che vi invito sempre di fare è di farvi le foto. Le foto sono fondamentali perché le foto ti fanno vedere a distanza di un mese, due mesi, tre mesi, la differenza della composizione corporea. E per tanti dei miei amici che allenano a terra, per esempio, prendiamo due pesi. Questo è un altro esempio fondamentale. Io prendo due pesi e mi alleno qua. Ci sono tante persone che non prendono il trampolino. Tanto mi alleno a terra. Guardate il movimento. Guardate i fidget. Molto tranquillo, i fidget, perché ormai ho capito che questo è il trucco del trampolino. Io, va bene, sto facendo i bicipiti. Ma sto facendo il naso? Cioè il piede si sta flettendo e sta consumando calorie. No. Ricordate che il muscolo in movimento è quello che consuma calorie. Così se faccio lo stesso esercizio qui, tutto il mio corpo sta muovendo, tutto il mio corpo sta percependo il fidget, il famoso fidget. Non so neanche come si chiama. Smette di... Non lo so. Andrò a cercare la parola. Andrò a cercare la parola perché dobbiamo capire come si chiama. Ma in inglese si chiama fidget. Ok, su e giù. E io posso fare tanti dei miei esercizi per le braccia, per i glutei, sul trampolino e abbinerò all'allenamento il fidget che aumenta e potenzia i risultati. Ma andiamo ad un altro attrezzo genico che ci tengo da farvi vedere perché sono due attrezzi che letteralmente hanno cambiato anche la mia carriera. Perché lavorandoci con questi due attrezzi, non solo io ho avuto tanti risultati sul mio corpo, ma ho visto tanti risultati su tante persone. Perché di nuovo qui stiamo parlando di fidget. Allora, che cos'è fidget? Guardiamo, io sono lavorando soltanto a livello 1. Livello 1. E lo porto a livello 10. Bello tranquillo. Niente di troppo eccessivo. E di nuovo, ho mai visto l'amico o l'amica con, si chiama la gamba nervosa, che sta là, fa, sempre con quel ginocchio che si muove, e sta così. Sì, sì, sì. Quella gente stanno bruciando più calorie e bruciando più grassi. Perché fanno fidget? Guardate qui. Non sembra che sto facendo il stesso identico movimento della mia amica che fa fidget, che dice, sei agitata. Si chiama anche nervous leg syndrome, la sindrome della gamba nervosa. Però, quello che ci interessa a noi è bruciare più grassi. E se fidget è il segreto per bruciare più grassi, perché non posso fare questo mentre guardo la televisione, mentre sto sui social, mentre sto lavorando? Perché io posso stare seduta dietro, non ce l'ho, però immaginate che sono seduta dietro la pedana, e lo metto sotto la mia scrivania, a questa velocità. Non è una velocità che mi farà sudare, è una velocità, però, che dice ai miei muscoli, dice al mio corpo, sto facendo movimento. E questo messaggio, attraverso i nervi, sarà percepito dal mio cervello che devo consumare calorie. E questa è la cosa più bella possibile, perché è vero che io posso costringerti, o consigliarti più che costringerti, di mettere più movimento nella tua giornata, ma prima o poi dimenticherai di fare questa cosa. Invece, se io prendo la pedana e lo metto sotto la mia scrivania, e lo porto in un ufficio, lo metto sotto la mia scrivania, e lascio che la mia pedana comincia a fare il lavoro per me, ragazzi, cambia da così a così, cioè noi avremo il fidget direttamente sotto la nostra scrivania per quei sei, sette ore che siamo seduti. E c'è un altro studio scientifico molto interessante, che dice che per ogni ora seduta c'è una perdita, c'è una perdita. C'è una perdita di longevità, c'è una perdita di massa bagra, è una perdita che non possiamo neanche, tra virgolette, riprendere, cioè recuperare. Così, il mio consiglio è, voglio essere magra fino a 90 anni, 100 anni, giusto? Sono in menopausa da 12 anni e non ho un fisico da una donna in menopausa, con la pancia, diciamo, con gli anestetismi cellulite, perché sono molto molto attiva, anzi, iperattiva, che per certe persone non calmati. Ma se mi calmassi, ingrasserei. Perché questa mia agitazione, che mi viene naturale di ballare, di saltare, di camminare veloce, di fare le scale anziché usare l'ascensore, tutto questo movimento che io applico alla mia giornata quotidiana, è quello che mi permette di tenere il metabolismo più alto, con il suono di 800 fino a 2000 calorie al giorno. Una volta mi hanno misurato il mio metabolismo basale, era un bel po' di anni fa, però quando hanno fatto il mio metabolismo basale, ero ferma, respiravo, basta, ero a digiuno, io bruciavo 2400 calorie al giorno per stare sveglia, per stare accesa. Il metabolismo basale è quando sei inerta, per tenere la macchina accesa, come una macchina a semaforo. La macchina a semaforo è accesa, ma non sta in movimento, non sta consumando carburante perché c'è l'acceleratore, consuma energia perché è accesa, comunque i filtri stanno muovendo, le pompe stanno funzionando, le ventole stanno girando. Quello è il metabolismo basale. Il mio metabolismo basale è molto alto, perché io faccio molto, molto fidget, sono una che fa fidget sempre, ma per coloro che, facciamo 800 calorie in più al giorno, perché di solito una persona può girare tra 1200 e 1300 calorie al giorno, io avevo, sulla mia maturata metabolica basale, così 900 calorie in più di una persona normale. Infatti hanno detto che è uno dei metabolismo più alti che hanno mai visto, considerando anche all'epoca avevo 40-45 anni. Va tutto messo nel contesto. 900 calorie al giorno, facciamolo ancora più facile, facciamo 900. 900 calorie al giorno, in 10 giorni sono 9000 calorie, in 10 giorni. Un chilo di grasso sono 7000 calorie. Così, è vero che sto invecchiando, è vero che c'è un rallentamento metabolico, ma se faccio fidget e faccio l'attrezza igienica che mi mantengono il metabolismo, io compenso e riesco a mantenere il mio set point dei miei 20 anni. Il mio set point è questo, cioè io ho sempre pesato così, perché massa magra, il mio scheletro e quant'altro, questo è più o meno il mio peso dei miei 20 anni, più o meno. Magari un chilo in più. Però questo è un set point che è un ottimo risultato per una donna di 55 anni. Perché faccio fidget? E io voglio darvi un'opportunità di bruciare più grassi in modo più semplice possibile e più realistico possibile. E i miei due consigli, tre consigli ci sono. Ok, fidget da solo. Cominci a muoverti, stare più in piedi, parli con le mani, muoviti le gambe, alziti mentre stai al telefono, cammina per strada, provate di utilizzare i mezzi anziché utilizzare la macchina e poi, quando torni a casa, ho trampolino e mi metto sopra solo a moleggiare, vestita di strada, vestita come sono tornata dalla mia giornata a guardare le TG per 30 minuti, moleggiando, perché sarà fidget, eppure piacevole perché ti sgonfie le gambe, perché questo aumenta il ritorno linfatico 1.400%, o di prendere una pedana vibrante e metterla sotto la scrivania a lavoro. La posso anche tenere in casa, ma a lavoro questo movimento aumenterà il consumo calorico durante la giornata ed è bassissimo, sono a 10 e questo è percepito senza sudare, senza grande fatica, leggerezza sulle gambe, è percepito dal mio cervello come se fosse un consumo calorico e ci aiuterà a bruciare grassi e le nuove ricerche, sai che cosa, veramente comanda il sistema brucia grassi e le vostre neuroni intesi come il sistema nervoso. Allora il sistema nervoso ovviamente il sistema nervoso centrale che è tutto connesso al cervello che è tutto connesso anche ai pensieri i neuroni sono fortissimi sono quelli che decidono la mobilizzazione del grasso bianco e il loro consumo. Ok? C'abbiamo anche il grasso bruno il grasso beige ma lo spiego in un altro webinar. Ma quello che voglio dire è stimolando il cervello a credere che si sta muovendo di più perché è quello che sto facendo in questo momento io sono totalmente passiva ma mi sto muovendo in fidget io brucerò più calorie perché il mio cervello dice oh neuroni che state innervando il panicolo di grasso brucia perché noi qua siamo in movimento stiamo consumando calorie ergo aumento il metabolismo e a quel punto avrò una una perdita di peso senza neanche andare in palestra a questo punto perché per il primo passo può anche funzionare per i miei amici che sono sportivi cioè i miei amici sportivi dovete lavorare al computer metti questo sotto i piedi anzi comincerò anche a farlo io perché questo nuovo studio scientifico mi ha incuriosito tantissimo e anche noi che siamo fidgeters perché il mio fisico è abituato che parlo con le mani è abituato che cambio che salto da destra a sinistra che vado sempre a mille in tutte le direzioni ok noi abbiamo la possibilità adesso anche noi sportivi di aumentare il metabolismo migliorando la composizione tra massa magra e massa grassa utilizzando queste tecniche che siamo fidget o perché la provoco io o perché lo faccio con il trampolino o perché lo faccio con le pedane vibrante la cosa importante è che subentra più micromovimenti nella vostra giornata per farti bruciare i grassi in modo chiamiamolo passivo ma non è passivo è attivo però non di allenamento proprio poi che l'allenamento ci deve stare per carità quello è un altro paio di maniche per sistema cardiovascolare per il cuore per i muscoli per le osteopiania per l'osteoporosi quella è un'altra cosa io sto parlando di una cosa in più un segreto in più perché sono fissata con questo concetto perché ci sono certe persone che possono mangiare qualsiasi cosa non ingrassano mai e quelli che mangiano l'aria ingrassano sempre mi sono sempre incuriosita di questo di questo meccanismo che secondo me è soffocante per chi sta dal lato che non mangia niente e ingrassa e molto probabilmente perché hanno poco fidget e hanno poco ok conoscenze di quale potrebbe aumentare il sistema brucigrassi nella loro vita e nel loro corpo in modo diciamo facile ok anziché dire mangio di meno allenati quello per carità fa sempre parte dell'equazione è molto importante quella è la base di tutto devo mangiare meno ho passato dieci minuti devi mangiare meno di quello che consumo energeticamente per avere un bilanciamento tra massa magra e massa grassa però noi possiamo fare tanto tanto di fidget proprio per aiutarci a bruciare di più così provate fidget piedane vibrante o trampolino e vedrete con il sistema brucigrassi notevolmente miglioraranno e scattatevi le foto provate per vedere quanto è potente questo segreto brucigrassi bacio dalla Jill fino al prossimo webinar ciao sono Jill Cooper e voglio aiutarti a cambiare vita voglio aiutarti a diventare costante disciplinata in forma e felice